Buongiorno, sono Elena Musumeci, funzionario demoetnoantropologo presso l'Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione. In questa lezione proveremo a introdurre brevemente l'ambito di applicazione degli strumenti catalografici relativi ai beni culturali demoetnoantropologici e di ripercorrerne sempre molto sinteticamente l'evoluzione nel tempo. La catalogazione dei beni demoetnoantropologici si inserisce nel quadro delle più generali operazioni di catalogazione volte alla conoscenza del patrimonio culturale a fini di tutela e valorizzazione. Il catalogo costituisce uno strumento finalizzato a un progressivo ampliamento della conoscenza sul patrimonio, conoscenza resa pubblicamente fruibile grazie alla costruzione di strumenti schedografici dettagliati sui singoli beni, di apparati di fonti e documenti allegati e di possibilità di ricostruzione di reti di relazioni tra beni diversi anche grazie allo sviluppo e al potenziamento di collegamenti con le risorse prodotte da altri sistemi come quelli regionali. Per quanto concerne la documentazione del patrimonio demoetnoantropologico, nelle normative ICCD viene operata una distinzione fra beni demoetnoantropologici materiali e beni demoetnoantropologici immateriali con riferimento rispettivamente alle schede di catalogo BDM e BDI. In relazione a questo sono state elaborate delle brevi definizioni inerenti ai rispettivi ambiti di applicazione. Per quanto riguarda la BDI, beni demoetnoantropologici immateriali, ne viene delineato l'ambito di applicazione per quei beni consistenti in performance uniche e irripetibili, strutturalmente connesse al territorio e a prassi socialmente condivise, trasmesse attraverso l'oralità e le tecniche corporali, ad esempio comunicazioni non verbali, danze, feste e cerimonie, giochi, letterature orali, musiche, norme consuetudinarie, rappresentazioni e spettacoli, saperi e tecniche. Per quanto riguarda la BDM, beni demoetnoantropologici materiali, facciamo riferimento a beni la cui costruzione e il cui uso sono strutturalmente associati a prassi socialmente condivise, trasmesse attraverso l'oralità e le tecniche corporali, quindi ad esempio abbigliamento e ornamenti del corpo, arredi e suppelletti, di mezzi di trasporto, ritualità, strumenti accessori e beni sul territorio. In riferimento all'attribuzione di uno specifico interesse culturale e etnoantropologico, però, risulta chiaro che questa distinzione tra materiale e immateriale è puramente convenzionale. L'identificazione e la restituzione di tale interesse, infatti, risiede più nella capacità di rinviare a un contesto socioculturale di riferimento che nell'inquadramento classificatorio e tipologico dell'oggetto classificato. Dunque, anche nel caso in cui si stia procedendo all'individuazione e alla catalogazione di un bene materiale attraverso l'utilizzo di una scheda BDM, sarà comunque necessario garantire la possibilità di una piena comprensione del bene e dell'interesse rilevato nel riferimento a un complesso di significati e di relazioni restituite attraverso la documentazione degli aspetti immateriali ad esso connessi. Ad esempio, dunque, le due schede possono essere utilizzate in sinergia per effettuare catalogazioni integrate, o, in ogni caso, sarà opportuno restituire la dimensione immateriale del bene attraverso la predisposizione di un corredo documentale di ricerca in cui questi aspetti siano evidenziati. Per ripercorrere brevemente la storia che ha portato all'elaborazione delle attuali normative, iniziamo col dire che l'interesse del Ministero della Cultura nel settore della documentazione e catalogazione dei beni demoetno-antropologici affonda le sue radici nelle attività dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione già all'indomani della nascita del Ministero stesso, avvenuta nel 1975. Già nel 1978, infatti, veniva pubblicato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali un volume in cui sono pubblicate una serie di importanti ricerche nel campo della demologia. Il volume porta il titolo di ricerca e catalogazione della cultura popolare ed è il frutto di un lavoro che aveva visto coinvolti, da un lato, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, due istituti centrali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Dall'altro, l'Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari dell'Università La Sapienza di Roma, che sotto la direzione di Diego Carpitella aveva condotto ricerche sul campo inerenti all'antropologia visiva, l'etnomusicologia, l'espressività di tradizione orale, la cinesica culturale, la narrativa popolare, la cultura materiale, ecc. Il volume offriva rilevanti indicazioni metodologiche, oltre ad alcuni esempi di compilazione delle schede di catalogo ai tempi elaborate per i documenti folclorici di diverso tipo. FKO per documenti di cultura materiale, FKM per documenti musicali di tradizione orale, FKN per documenti narrativi di tradizione orale, FKC per documenti folclorici cerimoniali. Nel volume vengono fornite indicazioni su dove identificare questi beni, indicando che essi sono nei musei, come beni decontestualizzati e successivamente musealizzati, nei territori, dove ancora ne è testimoniabile l'uso, o registrati in documenti, come testimonianze immateriali, quindi in archivi, fototeche, cineteche e altre raccolte documentarie. Inoltre venivano fornite importanti indicazioni metodologiche per la compilazione. Viene detto che le schede possono essere di archivio, qualora facciano riferimento a documenti già prodotti, o di rilevamento, qualora siano compilate in occasione di un rilevamento sul terreno. Inoltre per le schede relative alla cultura materiale si specifica che esse possono far riferimento sia a oggetti che sono ancora caratterizzati da un uso attuale, sia a oggetti che hanno perduto la loro originaria funzione o hanno subito trasformazioni del contesto di consumo. In tal caso viene indicato, come necessario, ricostituire attentamente l'esatto contesto a cui si fa riferimento. Le schede, elaborate da importanti studiosi del periodo in ambito etnoantropologico, vennero utilizzate in via sperimentale anche nell'ambito di campagne di catalogazione integrale, ovvero finalizzata allo studio interdisciplinare in diversi contesti. La sperimentazione delle schede venne condotta tanto su materiali di archivio quanto sul campo. Tali ricerche, promosse e realizzate dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, il Museo Nazionale delle Arte e Tradizioni Popolari e alcune soprintendenze per i beni artistici e storici, ebbero rilevanti implicazioni sul piano della ricerca. Nell'analisi di queste schede è anche molto interessante poter constatare il duplice livello di interesse. Da un lato, ovviamente, quello inerente alla descrizione stessa che viene riportata. Dall'altro, però, il fatto che esse si presentano alla lettura odierna come una fonte straordinaria per la ricostruzione della storia degli studi, potendo anche rilevare l'impatto che queste testimonianze storiche hanno nella lettura del contesto contemporaneo. Infatti, non di rado, il contesto di rilevamento che ha portato alla produzione di documenti fotografici, sonori o audiovisivi e alla stesura delle stesse schede descrittive è un elemento che aggiunge valore ulteriore a quello emergente dagli oggetti e dai fatti rappresentati e descritti. Si può procedere ad una veloce analisi di questi esempi di schede. Questo è un esempio di scheda FKO, elaborata per la descrizione di oggetti di cultura materiale. La scheda riporta la data del 1977 ed è una scheda di terreno, non di museo. Infatti, nella scheda si fa riferimento a un rilevamento catalografico, grazie al quale abbiamo una serie di informazioni. Viene descritto un oggetto, un pialletto, collocato in un certo luogo, via del Cipresso 17 a Roma, e riporta l'informazione che in questo luogo, all'atto del rilevamento, era presente una bottega, nello specifico una falegnameria. Questo fornisce già delle informazioni rilevanti dal punto di vista del contesto. A un livello più analitico vengono introdotti anche altri elementi, ad esempio sull'utilizzo del pialletto. L'utilizzatore è un falegname, di cui sappiamo nome e cognome, ma ci viene riferito che l'attività, l'uso per una funzione specifica, fare le bugne alle finestre, nel 1977 non era più attuale, perché effettuato con altri macchinari. Inoltre ci fornisce elementi su due altri agenti, Daniela Romani e Luciano Blasco, rilevatori dell'oggetto nel contesto, e che il rilevamento è avvenuto il giorno 2 marzo del 1977. Quindi vediamo come queste schede fornissero già tutta una serie di informazioni idonee a ricostruire vari tipi di relazioni di contesto per la rilevazione di un interesse etno-antropologico. La scheda si sofferma molto marginalmente sull'analisi formale dell'oggetto, quanto più ne evidenzia un uso, una funzione e tutte le informazioni connesse. Delle quattro tipologie di schede FK elaborate, solo la FKO era relativa ad oggetti. Le altre tre schede erano infatti elaborate allo scopo di descrivere beni immateriali, nello specifico musica, narrativa, riti e cerimonie. Attingiamo sempre ad un esempio riportato nel volume, una scheda relativa al contenuto di un documento musicale. È una scheda d'archivio, nel senso che è stata redatta per descrivere un bene immateriale disponibile a partire da un documento prodotto in precedenza. La scheda è infatti del 1977 e il documento è di 18 anni prima. Questa scheda è relativa alla descrizione di un bene musicale che coincide con un documento musicale di cui abbiamo trascrizione e registrazione. Vediamo che il brano è contenuto nella raccolta 48, Bobbina 1, Brano 3, nel Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare. Abbiamo inoltre notizia di un luogo di rilevamento, Galatina, in provincia di Lecce, più precisamente nella cappella di San Paolo. E una data di rilevamento, il 29 giugno 1959. Sappiamo che il 29 giugno è San Paolo, quindi abbiamo un altro elemento, la ricorrenza, l'occasione. La scheda riporta un'informazione circa un attore sociale di cui non sappiamo il nome, presumibilmente colui che esegue il brano musicale, la sua professione, contadino, e il suo gruppo etnico, meridionale, estremo, salentino. Il brano rilevato viene ricondotto a una particolare tipologia di esecuzione coreotico-musicale. È una piezica tarantata di cui vengono rilevate due differenti modalità performative, una musicale canora, come canto monodico, ed una danzata. Ci viene quindi data notizia di un altro attore sociale di sesso femminile, in questo caso ne conosciamo il nome, e ne vengono riportati anche luogo, data di nascita e posizione sociale. Ci viene anche indicata la funzione specifica di questa performance. Si tratta di un esorcismo coreotico-musicale a scopo terapeutico. Inoltre ci vengono fornite tutte le indicazioni per il reperimento della registrazione dell'evento in diversi documenti. Un disco 33 giri, allegato al volume La terra del rimorso di Ernesto De Martino del 1961, un video La terapia coreotico-musicale del tarantismo di Diego Carpitella del 1960. E infine vediamo che il rilevamento avvenne ad opera di Ernesto De Martino e Diego Carpitella, che il 29 giugno 1959, durante una campagna di ricerca in Salento, si facevano agenti di rilevamento, registrazione e successivamente autori di monografie. Evidentemente in questa scheda l'interesse demoetno-antropologico fa perno su due nodi fondamentali. Entrambi ci riportano al concetto di evento. Da un lato l'evento rilevato sul terreno, l'esecuzione e la performance. Dall'altro lo stesso rilevamento, ad opera di figure fondanti per la storia della stessa disciplina, la cui attività di ricerca ha tracciato un solco profondo nella storia degli studi, ma anche nella stessa percezione, narrazione, immagine, dello stesso fenomeno culturale rilevato e del contesto di rilevamento, segnandone in qualche modo innegabilmente le sorti nell'immaginario collettivo. Abbiamo poi un esempio di FKN, relativa alla narrativa di tradizione orale, che descrive un rilevamento avvenuto a Montescaglioso, in provincia di Matera, nel 1976. Riporta una barzelletta raccontata da un muratore mezzatro che dichiara di averla presa da un contadino una ventina d'anni prima, quindi da una fonte orale. Viene riportato che questa barzelletta veniva raccontata la sera intorno al fuoco, con funzione ludica, e ci vengono fornite delle indicazioni relative alla registrazione specifica, quindi al documento in cui questa barzelletta è registrata, anche riportando una serie di quelli che oggi chiameremo metadati tecnici. Nella scheda viene effettuato il richiamo alla classificazione secondo l'indice dei tipi Arne Thompson, indice di classificazione elaborato nei primi anni del XX secolo per la fiabistica, in questo caso rilevando come la barzelletta sia la risultante della combinazione di due aneddoti indicizzati separatamente, una storiella di coppie sposate a cui si sovrappone una storiella di uomini. Viene poi riportata tutta l'analisi sui toponimi e sulle caratterizzazioni specifiche degli abitanti dei paesi nominati nel racconto da parte degli abitanti di Montescaglioso, evidenziando quindi tutta una rete di relazioni più profonde e rilevabili all'interno del testo. Anche in questo caso, la rilevanza che la scheda storica ha come fonte non solo per la ricostruzione e la contestualizzazione del contenuto, ma anche dello stesso evento di ricerca ad opera di una personalità di rilievo quale Aurora Milillo, ci fa ben comprendere come questo duplice livello di documento descrittivo, ma anche di fonte storica per la storia degli studi sul patrimonio folclorico delle schede di catalogo abbia in qualche modo una propria rilevanza. L'ultimo esempio riguarda forse la più complessa delle schede FK, la FKC, che si presenta come la più ricca di campi informativi per la documentazione della ricchezza simbolica degli specifici elementi relativi a riti e cerimonie. Questo caso specifico riguarda il culto delle anime del purgatorio, documentato a Napoli, nelle catacombe di San Gaudioso nel 1977 e, come si può rapidamente vedere, riporta tutta una serie di elementi informativi relativi alla presenza di oggetti rituali, elementi animali e vegetali, un'accurata descrizione delle offerte effettuate, dei partecipanti, distinti in base al sesso e alle classi di età e dei comportamenti annotati in base alle ripartizioni della giornata, quindi diurni, pomeridiani o notturni. Anche qui si fa riferimento alla documentazione in cui è registrato l'evento, qui nello specifico documentazione fotografica con indicazione delle attrezzature tecniche utilizzate. Vediamo dall'elenco dei metadati come già si trattasse di un tracciato molto complesso e granulare, come è poi stato recepito ed articolato nelle normative successive. Già questi rapidi esempi ci fanno capire quanto fossero immediatamente centrali alcune questioni di metodo nella ricerca e catalogazione dei beni culturali e di fatto i saggi introduttivi a cura degli autori delle schede ci offrono indicazioni metodologiche molto utili anche nel presente, nonostante l'evoluzione degli standard catalografici e delle teorie e pratiche della disciplina. Alla base della metodologia connessa alla catalogazione dei beni demo-etno-antropologici è la prassi di rilevamento sul campo di un oggetto o di un evento circoscritto ad un dato luogo, un dato contesto ed un dato momento. La restituzione dell'evento di rilevamento per quel che concerne i beni immateriali è indissolubilmente legata alla realizzazione di una documentazione audiovisiva che può essere effettuata contestualmente alle attività di catalogazione, la cosiddetta schedatura sul terreno, o nel corso di un rilevamento precedente. In questo caso il documento sarà disponibile presso un archivio audiovisivo e si procederà ad una schedatura d'archivio. Anche per quel che riguarda i beni materiali, in particolar modo nel caso di collezioni e raccolte, i dati connessi all'evento del rilevamento, qualora disponibili, consentono di restituire appieno le modalità di produzione, uso o consumo sociale di un determinato oggetto all'interno del contesto, nonché gli eventi che ne hanno determinato la decontestualizzazione e la successiva ricontestualizzazione in una dimensione espositiva. In entrambi i casi la documentazione audiovisiva costituisce un elemento indispensabile per la piena comprensione dei beni. Quest'impostazione metodologica di base è rimasta invariata anche nelle successive evoluzioni che hanno interessato i tracciati catalografici. Nel tempo, infatti, i modelli descrittivi si sono evoluti avviando un processo di rielaborazione che ha condotto alle attuali schede, in cui si evidenza un amplamento delle possibilità di relazioni tra differenti elementi informativi e delle potenziali chiavi di accesso al bene. Nel 2000, di nuovo in collaborazione con il Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari, l'ICCD ha rilasciato la normativa BDM, Beni Demo-Etno-Antropologici Materiali, nella sua prima versione, che tuttavia riguardava ancora il solo ambito della demologia, lasciando invece ad altri tracciati specialistici la descrizione di beni materiali provenienti da contesti extraeuropei custoditi in raccolta e collezioni nazionali. Tra il 2002 e il 2006 veniva elaborata da un gruppo di lavoro Stato-Regioni, in collaborazione con la Regione Lazio, la normativa BDM, Beni Demo-Etno-Antropologici Immateriali. Per un approfondimento su queste due normative si rimanda alle lezioni specifiche, in cui viene effettuata anche una più puntuale analisi del tracciato. Nel 2014 inoltre è stata rilasciata una versione dei moduli informativi Modi, ossia tracciati semplificati destinati ad attività di censimento e di segnalazione, per l'applicazione alle entità immateriali, allo scopo di poter disporre di uno strumento specifico da utilizzare per gli inventari del patrimonio culturale immateriale. Condividendo l'impostazione della scheda BDI, anche per i modi con applicazione alle entità immateriali, il riferimento è a entità puntuali, quindi indispensabile è la presenza di un corredo sonoro audiovisivo con specifico riferimento a un unico rilevamento, identificato da un luogo, una data ed un contesto. Fino al 2018 il modulo Modi-AEI è stato anche lo standard ministeriale utilizzato per la realizzazione degli inventari del patrimonio culturale immateriale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO del 2003. La catalogazione dei beni culturali demoetro-antropologici assume una rilevanza particolare nella descrizione e nella restituzione pubblica di oggetti appartenenti a collezioni museali, di cui può agevolare la ricostruzione delle relazioni con il contesto di provenienza, con i corredi documentari prodotti in fase di rilevamento, basti pensare alle note di campo, gli apparati fotografici, sonori audiovisivi, fino ad arrivare agli archivi e le biblioteche personali dei soggetti che hanno condotto queste ricerche, andando a ricostituire nel modo più significativo possibile il contesto di produzione o uso dell'oggetto, ma anche i processi che hanno condotto alla sua risemantizzazione in quanto oggetto musealizzato. Tuttavia, essa si presta ad essere anche un valido strumento di narrazione del territorio, andando a evidenziare l'intrinseco valore che una serie di evidenze materiali rilevabili possono rivestire per una lettura del paesaggio in chiave etno-antropologica, come risultante di una rete di interazioni complesse tra uomo e territorio. Questa possibilità di applicazione assume rilevanza anche in una prospettiva progettuale che proceda al rafforzamento delle reti di relazioni nella stessa rappresentazione catalografica, attraverso un approccio interdisciplinare e integrato con altri domini, anche a supporto di attività di pianificazione e di intervento in materia di paesaggio. La realizzazione di percorsi narrativi, tramite cui amplificare le possibilità di relazione tra differenti strumenti catalografici, estendendone le connessioni anche a risorse esterne ai sistemi di catalogazione, nonché la progettazione di campagne di catalogazione integrata e la possibilità di restituzione delle relazioni tra differenti tipologie di beni e soprattutto tra beni immateriali e entità immateriali, costituisce in tal senso un'importante prospettiva di sviluppo e condivisione di ricerche, oggi possibile grazie all'implementazione di tecnologie connesse al web semantico che consentono di potenziare esponenzialmente le capacità espressive del linguaggio catalografico e di restituzione e riuso a livello locale. La realizzazione di una circolarità del processo di conoscenza che vada ad agevolare il recepimento di istanze locali, rafforzando lo scambio tra istituzioni centrali e territorio, è sicuramente la prospettiva sulla quale intensificare gli sforzi nel prossimo futuro. Terminiamo qui questa rapida introduzione. Ad ogni modo si ribadisce di far riferimento a noi funzionari referenti per il settore da metano antropologico di CCD per qualsiasi ulteriore chiarimento. Grazie.